Buongiorno, io sono Luca Sancricca, come vedete dalla slide, io sono Chief Education Innovation Officer di Winchnext. Io ho avuto da Chiara questo bellissimo incarico, questo titolo spettacolare, vivere e realizzare l'innovazione attraverso tecnologie digitali, che spazia molto, come vedete, e la mia reazione è stata quella che vedete sulla slide, perché con un tema così avrei potuto parlare per vent'anni. E allora ho deciso di fare un attimo un percorso che condividerò con voi e spero vi piaccia. La prima cosa che ci ha introdotto, che è accaduta con questo cigno nero che è stato il Covid-19, è che l'impossibile è stato possibile. Ovvero abbiamo avuto una trasformazione della nostra vita, della nostra digital life, che è andata a colpire vari settori, l'università, il lavoro, gli acquisti, la scuola, la famiglia, il modo di fare i pagamenti, di abitare, lo spazio. Voi siete per la maggior parte architetti e questo è un tema importante con l'introduzione dello smart working, perché lo spazio privato è diventato spazio di lavoro, spazio invaso, magari da più persone. Penso a chi studiava, a chi lavorava, in case non nate per questo. Oppure anche una fruizione diversa da quelli che sono i trasporti. Quindi andare a analizzare tutti questi punti, ovviamente, probabilmente verranno esplosi durante la giornata. Allora io ho pensato di raccontarvi una storia vera. Cosa è successo nella nostra azienda negli ultimi tre mesi e mezzo? Winch Next è un'azienda che si occupa di formazione, che nasce da un'agenzia storica che è stata fondata 30 anni fa e si occupa di formazione prevalentemente in ambito farmaceutico, all'interno delle aziende farmaceutiche. e invece Winch Next è una sister company che è nata da uno spin-off per sviluppare nuove metodologie di formazione. Infatti il Next non è altro che l'acronomo di Non Conventional Exponential Training. Questo che cosa vuol dire? Che noi abbiamo incentrato tutto il nostro discorso formativo sulla behavioral simulation. Quindi su potenziare la relazione attraverso la simulazione comportamentale con l'utilizzo della realtà aumentata. Per farvi comprendere cosa abbiamo fatto vi invito a fare un giro in macchina. Ok, quello che avete visto è un simulatore di Formula 1 che è stato costruito dalla Dallara qualche anno fa. Ce ne sono tre al mondo, due li usa la Dallara, uno in Italia e uno in Indianapolis e il terzo ovviamente l'ha voluto la Ferrari. Che cosa se ne fanno di questo simulatore? Questo simulatore è utilizzato per progettare le macchine ma poi per fare training ai piloti. Grazie a questo simulatore i piloti possono girare su qualsiasi circuito, fare esperienza e conoscere nel dettaglio il comportamento della macchina e caratteristiche del circuito. Chi segue l'automobilismo avrà notato che per i piloti giovani spesso si sente dire dai commentatori che è la prima volta che corrono su quel percorso. Perché in realtà hanno provato sul simulatore che ha le stesse caratteristiche di asfalto, di rarefazione dell'aria, di umidità e via dicendo. Quindi questo è uno strumento molto importante che ha rivoluzionato il training. Noi ci siamo ispirati a questo tipo di formazione e l'abbiamo portato in ambiti più comuni cercando di trasferire quello che è il concetto di training nello sport e nel lavoro. Nello sport ci si allena prima della prestazione per avere ottimi livelli di prestazione. Invece nel lavoro in genere il training, l'allenamento coincide con la prestazione. Noi ci occupiamo, lavoriamo in vari settori, lavoriamo nell'ambito della farmaceutica, nell'ambito della medicina, nell'ambito della finanza, nell'ambito delle assicurazioni, nell'ambito del retail. Quindi tutti i ambiti dove si ha a che fare ci si relaziona con delle persone. Quindi noi cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito una palestra virtuale che permette di perfezionare quelli che sono i technical e non technical skill nelle relazioni con i propri stakeholder, con i propri clienti, con i propri referenti, pensate a un medico o un paziente, piuttosto che a un promotore finanziario o con un cliente. E quindi applichiamo questo tipo di simulazione in vari ambiti, quindi per la profilazione, tecniche di negoziazione e via dicendo. Perché utilizzare la realtà aumentata? Quindi andare a costruire, come vi farò vedere, una simulazione che ha due piani, uno realistico e uno sintetico. Perché la tecnologia ci permette di costruire una membrana porosa che ci fa passare da quello che è la nostra condizione attuale, dalla tridimensionalità, dalla dimensione reale, alla dimensione virtuale. E ovviamente fa passare il nostro cervello che fa cedere da ingannare e questo aumenta l'efficacia della formazione. Quindi come l'abbiamo implementato? Vi faccio vedere un esempio. Noi abbiamo nei nostri centri, che sono dei centri mobili, come vedete qui stiamo erogando in un albergo, allestiamo una sala plenaria e una sala immersiva. Una sala immersiva dove a piccolo gruppo, da 3 a 6 al massimo, i partecipanti vanno a interagire con il loro interlocutore. E' una sala plenaria che vedete sulla destra dello schermo dove i partecipanti seguono le interazioni e le simulazioni e poi quando sono finite le simulazioni i partecipanti rientrano in plenaria e discutono con i trainer come è andato la loro simulazione e quindi poi fanno un debriefing. I piccoli gruppi che entrano in questa sala, che è una sala scura, una sala nera, sono in una situazione per cui percepiscono quella situazione realistica come reale. Questo grazie a un principio ben noto a chi fa videogiochi che è il superamento della barriera del giudizio. Cioè quando un sistema di comunicazione, che sia video, che sia un videogioco, che sia qualsiasi altra cosa, pensate solo quando vi commuovete davanti a un film, è talmente coinvolgente che noi pensiamo che sia vero, anche se sappiamo che sia finto. E questo è il meccanismo per cui fa funzionare questa formazione. In questo caso noi stiamo formando degli informatori scientifici del farmaco, cioè quelle persone che vanno negli ospedali dai medici, a rendere più efficace la loro interazione con il loro cliente medico. Vi faccio vedere un piccolo spezzone. A destra ci sono gli informatori, a sinistra il loro interlocutore. Grazie. Ecco, non voglio annoiarvi, era per darvi un assaggio e farvi capire come funziona questa metodologia e pensate che accadono delle cose così strane. Il livello di coinvolgimento emotivo è così forte che spesso a noi succede che le aziende clienti ci dicono ah, i nostri uomini sono bravissimi dal punto di vista scientifico e bisogna lavorare sugli aspetti solo della comunicazione. Poi noi li facciamo entrare in questa cella di simulazione e le persone che se gli parli fuori dimostrano di avere una grande capacità scientifica, quando sono messe sotto stress emotivo perdono anche questa capacità. con grande stupore dei nostri clienti e quindi da questo poi abbiamo sviluppato un'estensione di questo sistema che si chiama Emotional Lab dove andiamo a misurare le emozioni e dove le persone possono imparare a conoscere e controllare le emozioni. La stessa cosa la possiamo fare se consideriamo i medici come i piloti e i pazienti e le patologie come dei circuiti di Formula 1 da esplorare perché ogni paziente è diverso dall'altro noi possiamo usare questa simulazione anche per addestrare i medici nella diagnosi e nella terapia dei pazienti. Io mi occupo di questo tipo di attività da circa dieci anni e avrò formato circa dodicimila medici e vi faccio vedere un esempio di interazione con un paziente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, andiamo avanti. Allora, fatta questa esperienza nel gennaio 2020 noi abbiamo pensato di creare un ambiente totalmente immersivo questo è il bozzetto che avete visto che vedete è il bozzetto, il progetto quindi con la possibilità di avere due medici in training che vedete seduti sulle sedie dall'altra parte come se fosse nel loro ambulatorio di un paziente e ovviamente degli oggetti per esempio poter ingrandire un cuore nel caso di un cardiopatico e quindi andare a vedere la differenza tra un cuore sano e un cuore malato e utilizzare l'interfaccia vocale per esempio per chiamare una radiografia e vederla proiettata sullo schermo eravamo già arrivati a un buon livello di progettazione devo dire un ottimo progetto che avevano recepito molto bene anche i nostri clienti ovviamente e ultimo abbiamo creato un altro progetto che si chiama Virtual Pharmacy che è nient'altro che un ambiente di 4 metri per 3 dove completamente immersivo simuliamo una farmacia voi vedete questo questo è l'interno della farmacia con gli scaffali della farmacia con tutto quello che c'è in una farmacia e l'abbiamo creato per addestrare i farmacisti a interagire nel modo corretto nel modo più efficace con i propri clienti e dall'altra parte anche per trainare gli informatori del farmaco a interagire con i farmacisti noi eravamo belle che pronti per vedete questo layout perché era il layout preparato per partecipare al Cosmo Pharma che doveva svolgersi a maggio ovviamente oltre a questo ci occupiamo di formazione in presenza come vi dicevo all'inizio soprattutto la nostra controllante che ha una grossa esperienza in questo campo e storicità a questo punto voi mi direte beh hai fatto un bello spottone della tua azienda in realtà non è così perché il 22 febbraio del 2020 è arrivato il coronavirus e niente sarà più come prima è cambiato tutto sono cambiati i nostri piani e abbiamo cambiato la nostra azienda in realtà noi abbiamo solo accelerato un processo che avevamo già messo sulla carta ma che era molto più lento nella realizzazione e vediamo cos'è successo quindi tutto quello che vi ho fatto vedere come si è trasformato vediamo l'ultima la virtual pharmacy durante il lockdown come abbiamo pensato di cambiarla la virtual pharmacy non sarà più un cubo ma sarà un'esperienza che faremo con un sistema simile a quello che stiamo utilizzando un pochino più sofisticato e complesso visto le azioni che dobbiamo fare che utilizzerà questo strumento quindi un visore e permetterà alle persone di fare questa esperienza immersiva senza doversi recare dentro quella box e se fosse necessario visto che il Cosmopharma per ora è stato confermato a ottobre non faremo più un box ma faremo lavorare anche in presenza le persone con questi strumenti la tecnologia era già matura non erano maturi i tempi per utilizzarla perché noi tendiamo a stare nella nostra area di comfort e quindi far uscire le persone far utilizzare nuovi strumenti magari si riesce perché sono molti innovativi fanno effetto wow ma non diventano strumenti correnti la necessità li fa diventare tali il Next Lab com'è cambiato? vi ho raccontato che c'erano due ambienti fisici una sala plenaria e una sala di simulazione allora prima di tutto abbiamo creato un avatar un pochino più evoluto di quelli che utilizziamo oggi che è l'interlocutore virtuale che vi faccio conoscere grazie Ecco qua, ma non basta. Il Virtual ExLab usa una tecnologia simile a quella che stiamo utilizzando, infatti ho utilizzato un'immagine rubata della compresenza in ambiente virtuale. Per darvi l'idea proprio che siamo più o meno nello stesso ambiente, dove abbiamo realizzato due sale, la nostra immersiva e la sala plenaria, dove i partecipanti possono lavorare come quando lavoreranno i nostri centri, con i nostri interlocutori virtuali. Questo ci è servito per superare un gap forte, quello che è stato definito distanziamento sociale. In realtà questa è una definizione assolutamente sbagliata, perché noi non abbiamo fatto un distanziamento sociale, ma un distanziamento fisico, perché il distanziamento sociale non è mai esistito. Abbiamo usato i social network, abbiamo usato i sistemi collaborativi per lavorare, abbiamo usato le piattaforme di videoconferenza, quindi noi abbiamo mantenuto i rapporti sociali, ma avevamo il problema di incontrarci. Ecco che i sistemi, come quello che stiamo utilizzando oggi con connessione e che utilizziamo anche noi nella nostra formazione, servono proprio a questo, a ridurre il distanziamento fisico e utilizzare il distanziamento, invece l'avvicinamento sociale con altri strumenti. Questo ha accelerato anche il nostro business, perché per esempio noi siamo stati interpellati da una grossa università più di un anno e mezzo fa, abbiamo discusso piani di formazione per formare i giovani medici con questa metodologia che va a comprimere la curva di apprendimento, dopo un anno e mezzo eravamo ancora lì a parlare. Partito il Covid, in due mesi abbiamo chiuso l'accordo con questa università e da ottobre utilizzeranno il nostro Next Lab per fare formazione ai loro medici e non solo in Italia, in tutto il mondo, perché la useremo all'inizio per la facoltà di medicina in inglese e quindi daremo la possibilità a chiunque di fare pratica con i pazienti in lingua in qualsiasi parte del mondo siano. Ma non ci siamo fermati qui, perché questo era il nostro progetto, quindi il nostro progetto nell'ambito della medicina partiva da un'idea degli anni 50 del paziente standardizzato nata nelle università americane, per arrivare al paziente virtualizzato che vi ho presentato adesso in una fase intermedia, ma in realtà il nostro obiettivo come startup innovativa è arrivare al paziente standardizzato virtuale basato su intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire questo? Che noi useremo l'intelligenza artificiale, come indicato al punto 2, lasciate stare le altre due parti che sono più tecniche, per costruire un motore che simula il paziente e fa rispondere automaticamente l'avatar alle domande del medico quando sono in training. A questo punto non ci sarà più bisogno di attori umani o agenti umani comunque che facciano funzionare gli avatar o che interagiscono. Vi chiederete come mai lo facciamo con il paziente e non con il medico, perché è molto facile standardizzare un paziente, l'importante è avere una base di casi abbastanza ampia, standardizzare il comportamento di un medico, il comportamento decisionale è molto più complesso. Anche la formazione in presenza ci ha dato qualche problema, noi avevamo un sacco di corsi e quindi abbiamo fatto un po' come hanno fatto tutti, spingendoci un pochino di più, quindi non usando solo sistemi di web conferencing come Teams, come Zoom, come Meet, come i vari strumenti, ma abbiamo usato anche dei tools collaborativi perché le persone devono avere questa vicinanza sociale comunque, questa possibilità di collaborare insieme, di fare quello che facevano in aula e gliel'abbiamo fatto fare utilizzando anche il virtual patient o dei collaborative tool di questo genere. Vedete per esempio, questo è un esempio di corso dove come icebreaking tutti avevano la possibilità di entrare in questa mappa, è un corso internazionale e indicare da che parte del mondo venivano. È importante questo perché questi collaborative tools ci permettono di fare co-creation che è un elemento importante. Un altro elemento che si usa e che utilizziamo sono i serious game, perché è importante imparare divertendosi e anche questo favorisce l'engagement e la collaborazione. In tutto quello che implica la distanza l'engagement è fondamentale. Però in tutto questo non dobbiamo dimenticare una cosa, che la tecnologia va di pari passo a quello che è il fattore umano. Quindi bisogna sempre tenerne conto. Noi nella nostra formazione, vi dicevo che abbiamo cambiato la formazione in presenza e oggi abbiamo formato 2500 informatori scientifici del farmaco. dall'inizio di marzo, per imparare a comunicare con i medici via remote call e non più in presenza. La cosa più importante prima della tecnologia è lavorare sul mindset delle persone, che è lo scoglio più grosso. Noi abbiamo visto un passaggio a diversi livelli, quindi all'inizio del corso le persone erano molto scettiche, molto spaventate. A metà del corso erano curiose, alla fine del corso erano entusiaste. Questo è molto importante perché la tecnologia non basta. A questo punto, ritorno alla slide dalla quale abbiamo iniziato. Siamo in periodo di unlock, abbiamo detto che l'impossibile è stato possibile, ma a questo punto c'è da farsi una domanda. Cosa succederà con l'unlock? Ci ricorderemo di queste nostre capacità nel futuro, di essere stati capaci di lavorare a distanza, di progettare, di collaborare, di fare cose così, come oggi organizzato connessioni, come abbiamo fatto noi, o ritorneremo alla presenza dimenticando tutto questo. Allora, per quello che è il nostro settore, soprattutto quello medicale, siamo sicuri che non sarà così, che non si tornerà indietro, ma bisognerà essere capaci e molto abili nel mixare questi strumenti, nel mixare la presenza e la distanza. Perché la distanza ha degli svantaggi, ma ha molti vantaggi. Pensiamo solo al tema dell'inquinamento, agli spostamenti, all'ottimizzazione del tempo. Poi ovviamente c'è la necessità di un bilanciamento della vita e purtroppo in questo periodo siamo stati tutti sovraccaricati da questa attività a distanza. Quindi dall'online dobbiamo pensare di ritornare all'onlife riprendendoci anche i nostri tempi.